Il Comune di Montesilvano rafforza le condizioni di sicurezza in mare e sulle spiagge rinnovando anche per quest'anno la convenzione con gli operatori polivalenti salvataggi in acqua, gli OPSA della Croce Rossa Italiana, i quali con la loro esperienza, con le loro attrezzature e muniti di defibrillatore affiancano gli uomini della Guardia Costiera e in mare sono complementari al lavoro dei bagnini a presidio del litorale di Montesilvano, dai grandi alberghi e fino al confine con Pescara. Stiamo già facendo attività dai 300 metri interni al mare, quindi dalla battiglia a 300 metri è un'attività coperta dai bagnini, noi interveniamo con i nostri natanti al di fuori di questi 300 metri, assistiamo quindi tutte quelle persone che hanno bisogno sia per problematiche di carattere sanitario, anche per problematiche di difficoltà a rientrare con alcuni natanti, alcuni mezzi, li assistiamo affinché tutto vada nel verso giusto. Pattulliamo il fine settimana e oramai questo è il secondo anno e in più facciamo un'attività dedicata alla informazione presso gli stabilimenti balneari di Montesilvano per quanto riguarda tutte quelle attività inerenti a colpi di calore, informazione generale sulla corretta alimentazione e come tutelarsi dal grande caldo. Questo servizio aggiuntivo che va a coprire il tratto di mare dal 300 metri ad andare oltre riveste un'importanza molto molto rilevante, alcuni casi di situazioni hanno confermato l'utilità in quanto la Croce Rossa ha operato per consentire il rientro di imbarcazioni che avevano difficoltà, come fatto lo scorso anno abbiamo rinnovato questa convenzione e intendiamo anche di farlo in futuro perché riteniamo che questo sia veramente un servizio fondamentale, importantissimo per la cittadinanza e per i turisti che scelgono Montesilvana come meta delle loro vacanze.